Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questo sarà un vlog perché stasera vado via mi sono lavata i capelli e mi sono struccata ora mi trucco e volevo portarvi con me perché comunque ho fatto tipo una festa enorme che c'è nella mia città volevo fare un get ready with me però poi ho pensato è palloso quindi facciamo un vlog della serata e quindi a dopo, ciao sono pronta e ho questa borsa questa maglietta e dei pantaloni neri e il trucco semplice così e il trucco semplice Ora andiamo alle giostri, vero? Sì, nemmo le giostri. Sì, nemmo le giostri. Sì, nemmo le giostri. Sì, nemmo le giostri. Sì, nemmo le giostri.